Nella vita di tutti i giorni, io sono Marinette, una ragazza normale, con una vita normale. Ma c'è una cosa che mi riguarda, che nessuno conosce, perché ho un segreto. Miraculous, pura energia, semplicemente la migliore. Miraculous, è la magia, vince su tutto, è l'amore. Miraculous, Miraculous. Sul serio, ragazzi, io ci ho provato più volte, no? Certo, è vero, all'inizio è stato un disastro totale. Non ci riesco, non ci riesco! Invece sì, ragazza, è tutta la mattina che ci pensi. Adesso, vai! Go! Ciao! Ciao! Una delle marinettate migliori, senza dubbio. Ma col tempo sono migliorata, no? Come quella volta che sei stata incredibile al trocadero. Possiamo accompagnarti, se vuoi. No, davvero, devo ancora pranzare. Grazie. Ok. Buon appetito, allora. Ci vediamo a scuola domani. Oh! Bene, quindi non ho fatto progressi. Non è vero, Marinette? Oggi tu e Adrion siete amici, è un progresso. Siamo ancora amici, tu e io. Ma certo, però magari possiamo smetterla di farci gli scherzi a vicenda. Lo so, non sono bravo con gli scherzi. Anche alla ragazza che amo non piacciono. La ragazza che ami. Tu ami una ragazza. Diventare amica di Adrion è la peggiore cosa che potesse accadere. L'amicizia è meravigliosa. Non può esserci.